Benvenuti ad Esapolis, il museo del micro megamondo della provincia di Padova, un museo sugli insetti conosciuto a livello internazionale. Scopo del museo è arrivare alla gente, qui si possono conoscere tutti i segreti di quel micro mondo di piccoli animali importanti per la conoscenza dell'evoluzione della vita del nostro pianeta. Rete Eventi è una rassegna che coinvolge 65 comuni, più di 400 eventi nelle piazze e nelle sale del territorio della provincia di Padova. Uno straordinario affresco di iniziative culturali, spettacoli, concerti, un calendoscopio di immagini e emozioni che vogliono rappresentare ancora una volta la vivacità e la brillantezza del nostro territorio. Un'edizione straordinaria frutto della collaborazione tra provincia di Padova, regione del Veneto e fondazione della cassa di risparmio di Padova e Rovigo. Questo luogo magico e straordinario vuole essere il suggello per questa nostra rassegna davvero speciale alla quale vi invito a partecipare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.